Sono Giacciano Gagliatti, buongiorno, ho chiamato per invitarvi alle trove della mia trasmissione su Rai 2 con Billy Gallucci. Ecco Angelo, se vuoi venire, proviamo stasera alle 10, magari prima ce ne andiamo a cena in un ristorantino qui a Roma da Jimmy Armuzzicone. Da Jimmy fanno la godoletta grande come una mortiera della macchina. Ferrari, a te non ti ho invitato perché so che sei presissimo, con tutte le tue cazzate e cazzatine, a vedere volate come prima, in giro a rompere le palle della gente. Scusate, va la chiamata, pronto? Oh ciao Millie, carissimi. A Millie Gallucci, ci vediamo stasera, sai che sono contento di lavorare con te Millie, sei la più brava di tutte, sia come artista che come persona. Allora, senti, ci vediamo alle 10, eh? Sì, ciao, ciao caraciotto. Ma baffanculo, ma baffanculo, ma baffanculo. Ma baffanculo, ma baffanculo. Ti sembra la macchinetta del caffè, sembra la macchinetta, parla veloce, veloce, la parla di cucina. Ma a donne, come stai? A donne va tutto bene, Angelo, ho tante amiche che mi chiamano, me le giostro l'una con l'altra. Eh, stava sicuramente una di lei, è una. Sì, sentiamo, sentiamo. Pronto? Chi è? Ah, ciao Tancredi. Oh, come stai, carissimo? Sì, tutto bene. Oh, auguri, eh? Auguri per l'anno nuovo, ciao. Franco, Tancredi. Senti, magari per settimana prossima organizziamo una scena, eh? Certo. Io, Tess, Binonela, Bruno Conti, Santarini, Chiarucci. Sì, una rimpatriata. Eh, una rimpatriata, eh. Andiamo da Jimmy il Buzzicone, eh? Oh, Franco, Tancredi, da Jimmy fanno le cotolette grandi come una porta da gassi, eh? Che grandita, eh? A proposito, la Roma sta in testa al campionato. Eh, le complimenti. Beh, sinceramente quando ci stavi tu era un'altra cosa, eh? Sì, sì. Io tante volte, Tancredi, la sera prima di addormentarmi, penso alle due parate, eh? Pensavo veramente in grade. Allora, ci sentiamo. Sì, ciao. Eh, ma grande, Tancredi. Ciao, ciao, ciao Tancredi. Grande, grande, grande. Sto rompi, coglioni. Questo c'ha cazzo da fare, eh? Dalla mattina alla sera, e massacca la pippa a me. Eh, te lo vedi che ti chiamano. Che palle, oh, ma tutti questi qua. Ma perché se levano dalle palle, eh? Gianfranco, comunque hai tanti amici. Eh, ti chiamano tutti. Gianfranco lo dice a tua sorella, mi chiamo Giampiero. A me me vogliono bene tutti. Questo mi fa un sacco di piacere. Gianfranco – Io dici che non sopporto un po' meno, magari sono le vecchie glorie, non è per cattiveria. No, no, no. Non è una cosa di cattiveria. No, certo, certo. Un'altra telefonata. Allora, ecco, vediamo. Ah, finalmente una voce più migliore. Ciao, ciao. Non ti ho riconosciuto. Ti conosco? Dimmi ancora qualcosa, parla. no non ho capito chi sei ma ho bisogno della conferma chi sei carissima? Carolina Morace senti ma batte raffanculo che oggi c'è i cazzi mia